Siamo alla terza giornata di Palla in Rete, un'attività che si svolge da 10 anni, quest'anno è il 19 anno, abbiamo avuto dei risultati non indifferenti con la partecipazione di squadre classonate anche a livello europeo, questo da Lisbona e da altre parti, questo fa piacere e noi vogliamo veramente continuare su questa strada, grazie a tutti i volontari che hanno dato una mano, che hanno dato un impegno, che sono tanti, dietro le quinte ce ne sono tanti, grazie a tutti, buongiorno e buona attività. Abbiamo diviso la mattinata in due giorni. Abbiamo diviso la mattina, grazie a tutti, 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 grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti.